Ragazzi se non volete diventare storti come Jumbo mettete un like, dobbiamo arrivare a 500 like per farmi felice per non diventare comunque storti come Jumbo o neri come gioie xd 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 Quindi lasciate un like, lasciate un commento, il video contiene un fail allucinante che poteva essere una probabile opener del stage Quindi rendetevi conto E quindi buona visione Salve a tutti ragazzi di Fierrof che mi parla, oggi come ho detto sono tornato con un nuovo video, siamo su Mv3 Come ho detto in questi giorni giocherò, in questo mese giocherò E devo dire che avevo cominciato questa cosa del giocare forzatamente un po' in modo negativo Nel senso che non avevo molta voglia di cominciare questa cosa però mi è tornata una voglia assurda di giocare E quindi sto giocando tanto, nel senso tanto per il tempo che ho Perché comunque ogni momento che c'ho libero cerco di utilizzarlo proprio per giocare E vedo che comunque i risultati pian piano si vedono Certo ovviamente non ho correttato niente di Creed the Page Però ho già visto un netto miglioramento rispetto ad esempio all'altro ieri in cui avevo registrato il video Ho notato che lunedì che non avevo per niente lo shot Avevo già cominciato a fare qualcosina, non male Avevo provato a staccare qualche multi così Qualcosa mi era uscito ma niente di che Ieri ho fidato, ho fatto i miei primi 3-4 grandi fail da Creed the Page Purtroppo Però vabbè Comunque come vedete sto giocando in Pro Mod Così un po' a caso Che poi non è Pro Mod perché se dico Pro Mod dopo la gente viene detto No non è Pro Mod ma è il Fav allungato basta Quindi tipo è solo il Fav allungato Madonna lupa Lì c'era gente Tanta gente Questo non lo riesco a prendere È che non sono abituato a sta mappa E quindi C'è una cosa strana ma se voi giocate in una mappa dove non siete abituati a giocare È inutile anche se la gente vi si ferma davanti Non li riuscite a prendere perché non avete Quella abilità Che c'è con l'esperienza su quella mappa Nel senso Non sapete bene come muovervi Non sapete bene cosa fare Per Hittare la gente E quindi questo è il problema che mi si sta ponendo ora Oddio Guardate Ma questo spot per l'attacca in questa zone di lancio è la cosa più matta di tutte Sperando che la gente non salga qua Cioè la sfiga Questa era triple che le poteva andare per la multi Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Non ci sto credendo Lì poteva essere singola triplanoscopia Comunque ieri ho pure filato una triplanoscopia assurda Vedete quante possibilità per far clip comunque alla fine Cioè Non sto giochiando bene perché comunque la prima partita del giorno Laga un pochettino Sta lobby non è bellissima per fare cancer load Ma Comunque Posso provarci a fare una multi Non l'ho preso? Poi ho notato che Sto facendo un sacco di noscopi in più a caso Tipo in turn on Roba simile che se mi escono E faccio una multi con un turn on dentro Ieri l'ho filata Con un turn on in salto Cosa scusa? Cosa scusa? Cosa scusa? Cosa scusa? Cosa scusa? Cosa scusa? No 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 Stop Sto seriamente per piangere Non ci sto credendo Non ci sto credendo L'ho detto L'ho detto L'ho detto Tre secondi prima Cioè noscop a caso L'ho preso il terzo o il quarto L'ho missato che non l'avevo visto Cioè se l'avessi preso Avrei urlato Sarebbe stata la closer del stage questa eh Cioè che cazzo era? No 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mi viene da piangere Mamma mia Mamma mia ragazzi Cioè La hitterò prima o poi una clip del genere Devo essere cazzo carico Dai Ce la posso fare Questa era matta Era matta Per poco Era davvero Una delle clip esagerate Che io Avessi mai fatto Se mi fosse uscita Davvero Forse non da closer Perché la closer è troppo più bella Per essere sostituita Da una clip del genere Però opener ci andava Opener con un noscop a caso A caso totalmente Dentro nella finestra Anche a mid distance Che era bello In più di Aco Game Promote Il quarto non l'avevo visto Se l'avessi preso Mamma mia Questo Pov Pov è tua mamma Di okane nei porno Pov Ovviamente Mi giro dall'altra parte Non c'è la multi Dall'altra parte Wow Non l'ho preso Buh Che schifo la vita No no La vita è bella C'è la benigni Questo era preso E questo era pure preso Era triple Che questo Astigazzi Triple Che non c'è quarto Quanti Ok 3 Essere italiano Significa pure questo Tirare c4 Così a caso Grande gioia Fabri Dai spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ringrazio E 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 vi ringrazio